Noi già l'anno scorso, il 1 aprile 2023, manifestammo a livello nazionale come Feneal Will e Fillea CGL in ogni regione e qui, proprio in Sicilia, lo fecimo qui a Palermo allo ZEN e denunciammo a gran voce l'applicazione del nuovo codice degli appalti che non ci convinceva e adesso non ci convinceva, è già ancora adesso che è attuato, soprattutto dalla parte dei subappalti a cascata. La dimostrazione è che i pochi cantieri, tra l'altro, i pochi cantieri che adesso ci sono di appalti pubblici in essere soprattutto nella nostra realtà, questo governo ha deciso di liberalizzare i subappalti a cascata con due danni l'aspetto economico e la parte retributiva dei lavoratori e poi vengo e mi spiego, e l'aspetto della sicurezza. L'aspetto economico è perché considerate che ogni impresa che lavora in un appalto pubblico fa riferimento a dei subappaltatori, lo fa tramite una percentuale di ribasso. Consentire questa applicazione di legge da parte dello Stato consente che un appalto che in origine era di un milione di euro va a costare, abbiamo calcolato, arriva anche a prezzi sulle 600 mila euro, giustamente delle due luna o non paghi i lavoratori o non metti il materiale. È constatato e certificato che accadono entrambe le cose, non vengono pagati e spesso hanno problemi a percepire le loro spettanze i lavoratori e in più ne viene meno anche la sicurezza e la qualità del lavoro stesso.